Non ci sarà più un Papa dopo questo, Dio distrugga la Francia, l'ambasciatrice americana in Kosovo è una miscredente che merita la punizione della sciaria. Sono frasi come queste, diffuse in rete su social network come Facebook, che hanno portato all'arresto in Kosovo di Samet in Missiti, un muratore quarantenne kosovaro che fino a poco tempo fa risiedeva a Chiari vicino a Brescia. Per la Digos di Brescia e l'antiterrorismo è la mente di un gruppo con accertati legami con cellule giadiste in Siria. Definito pericoloso dagli inquirenti, è stato arrestato al confine tra Kosovo e Macedonia questa notte con le accuse di apologia di terrorismo e stigazione all'odio razziale. Il fratello Ismail, Missiti, residente a Chiari, è stato espulso dall'Italia dopo che nella sua abitazione è stato trovato materiale propagandistico. Espulso per terrorismo anche lo zio Mergim, Missiti, trovato vicino a Savona. Per un cittadino macedone, residente vicino a Vicenza, è stata chiesta la misura di sorveglianza speciale per motivi di terrorismo con il ritiro del passaporto. Esisteva una intenzione di orientare, come dire, apologeticamente questi comportamenti a tutta una serie, una vastissima pletora di persone che potessero rendersene protagonisti. Noi non siamo Rambo né Van Damme, dicevano nelle chat che si scambiavano tra loro, facciamo fatti veri. In casa di Samet sono state ritrovate armi dalla rete ai fatti veri, appunto. Ancora una volta è stato il web, vero megafono della propaganda jihadista, a portare sulle tracce dei presunti terroristi, conversazioni in chat con profili che risultavano risiedenti in Siria. L'esaltazione degli attentati di Parigi su Facebook. All'Ae grande, se vuole domani altri 1500, scrivevano. Da qui sono iniziate le indagini sul territorio. Per la prima volta è stata usata la misura di sorveglianza speciale per terrorismo. È la prima volta che si è dato attuazione alle disposizioni contenute nel decreto legge adottato nel febbraio scorso. Nei confronti di quei soggetti, che pur non essendo stati raggiunti da prove di effettiva partecipazione all'attività terroristica, sono gravemente sospettati. La propaganda di Samet Im City e del suo gruppo si rivolgeva a Kosovari, immigrati in Italia. Avrebbero agito in collegamento con filiere jihadiste attive in Siria, vicine al terrorista kosovaro di Daesh, Lavdrim Muaxeri. L'Europa verrà disgregata, scrivevano, mentre entro cinque anni si formeranno gli stati islamici e ci sarà una sola legge, quella della Sharia.